Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Elisabetta Gregoraci sta tornando a casa dopo giorni di preoccupazioni per i suoi fan. La conduttrice televisiva è stata ricoverata per la seconda volta in poche settimane, generando un grande allarme tra i suoi follower. Con un video postato su Instagram, ha mostrato il viaggio in macchina verso casa, accompagnato da una didascalia piena di sollievo, finalmente si torna a casa. La Gregoraci non ha rivelato le ragioni esatte del suo ricovero, lasciando spazio a ipotesi legate allo stress accumulato negli ultimi tempi. Infatti, la conduttrice è impegnata con il nuovo programma su Rai 2, Questione di Stile, mentre affronta anche il cambiamento nella vita di suo figlio Nathan Falco, che ha iniziato il suo percorso scolastico in un prestigioso college in Svizzera. Tutti questi eventi potrebbero aver contribuito a un sovraccarico di stress per Elisabetta. Durante i giorni trascorsi in ospedale, la Gregoraci ha tenuto aggiornati i suoi fan con messaggi sinceri sui social, scrivendo, e poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me. Ha anche postato una foto dal letto dell'ospedale, dove si vedeva con una flebo al braccio, lasciando intendere che il percorso di guarigione non è stato facile. Ma ora, con il cuore più leggero e il via libera dei medici, Elisabetta può finalmente godersi il ritorno a casa. I fan, che l'hanno sostenuta con messaggi di affetto e solidarietà, saranno sicuramente felici di vederla di nuovo in forma. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Sebbene la Gregoraci non abbia voluto dare dettagli sulle sue condizioni, ha assicurato che il peggio è passato. Il messaggio più recente, accompagnato da un cielo sereno nel video Instagram, sembra confermare che il periodo buio è alle spalle. Ora Elisabetta può concentrarsi sui nuovi progetti televisivi e sulla vita familiare, lasciandosi alle spalle questi giorni difficili. Come sempre, l'affetto del suo pubblico non è mai mancato, e ora tutti si chiedono cosa riserverà il futuro per la conduttrice. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.